Sono Beatrice Sandri e Southern Europe HR Director di Alien Italia. Alien è la prima azienda leader nel settore consumer health care. Nasciamo come Alien da una separation con GSK, che è un'azienda puramente farmaceutica. Ma abbiamo mantenuto completamente il nostro portafoglio prodotti e ci dividiamo in quattro categorie. Dolore, vitamine integratori, salute orale e respiratorio. Alien ha deciso di investire nel benessere delle proprie persone, dei propri dipendenti, perché è fondamentalmente collegata al proprio purpose, quindi portare, offrire una migliore salute quotidiana con umanità. Questo significa che nel nostro DNA vogliamo portare il benessere a tutte le persone e le prime persone a cui ci rivolgiamo sono i nostri dipendenti, perché vogliamo che loro vivano bene sia nella loro vita al lavoro sia nella loro vita personale. Lo facciamo con una scelta che possa portare a un miglior work-life balance, quindi un bilanciamento tra gli impegni personali e quelli lavorativi. In Alien al momento abbiamo diversi progetti di welfare aziendale e anche di well-being. Tra questi sicuramente il primo che possiamo citare è EAP, Employee Assistance Programme, un programma al quale tutti i dipendenti possono accedere, che possono essere messi in contatto con un professionista individuato sulla base dell'esigenza segnalata. Insieme ad EAP abbiamo un altro programma di Elion a livello globale che si chiama P4P, che è Partnership for Prevention. Questo programma dà la possibilità a tutti i nostri colleghi di accedere a delle prestazioni mediche aggiuntive rispetto a quelle del sistema sanitario nazionale. Nel mondo sempre della cura della salute e del benessere mettiamo a disposizione di tutti i colleghi delle assicurazioni sanitarie integrative. L'ultima area che copriamo tramite la nostra piattaforma Well-Ser e Well-Being sono i check-up medici. Abbiamo intrapreso la nostra partnership con Fitbrine nel 2021 durante il periodo di pandemia. Abbiamo deciso di confermare la nostra partnership anche per gli anni successivi e a quel punto è stato possibile accedere non soltanto all'offerta digitale, ma anche all'offerta delle strutture affiliate e fisiche, puntando quindi sulla diversità dei vari interessi dei nostri dipendenti e sull'accessibilità di molte strutture sportive, quindi non soltanto palestre, ma anche centri yoga, piuttosto che piscine e così via. La scelta di Fitbrine è stata per noi inoltre una scelta molto positiva e vincente perché il nostro personale non si concentra soltanto presso gli uffici di Milano, ma è distribuito su tutto il territorio nazionale. Per questo motivo, grazie alla partnership con Fitbrine, possiamo consentire a tutti in modo molto democratico di avere accesso ad un'opportunità di mantenersi in forma e attivi, potendo contare sull'accesso alla struttura più prossima al luogo di lavoro, piuttosto che alla propria abitazione. Ho conosciuto Fitbrine durante il processo di selezione. L'HR me l'ha citato tra i benefit offerti dall'azienda. Questo mi ha fatto capire quanto Alien sia un'azienda attenta al benessere fisico dei propri dipendenti. Quando ho iniziato a utilizzare Fitbrine, il mio bisogno era di trovare una palestra vicino a casa che organizzasse corsi sia al mattino che al pomeriggio. Prima di Fitbrine ero iscritta in una palestra ed ero legata ai corsi e agli orari di quella palestra. Talvolta mi trovavo a dover rinunciare a partecipare ad un corso perché magari avevo fatto tardi in ufficio. Mi è capitato per esempio di uscire, di far più tardi in ufficio e di non riuscire a partecipare alla lezione di CrossFit, ma non volevo rinunciare alla possibilità di allenarmi e quindi mi sono iscritta ad una lezione di yoga. Grazie a Fitbrine, oltre a consentire l'accesso alla rete di strutture convenzionate e anche all'offerta digitale, abbiamo organizzato degli eventi sportivi in presenza. Il primo è stato l'anno scorso, presso la nostra precedente sedia aziendale che disponeva di un campus all'aria aperta molto ampio dove abbiamo organizzato un'attività sportiva divisa in sezioni in cui abbiamo previsto degli allenamenti funzionali, di pilates, yoga e anche di cardio al termine del quale abbiamo fatto una piccola gara che ha decretato dei vincitori. Anche quest'anno abbiamo voluto replicare l'evento sportivo e l'abbiamo fatto presso il Parco Sempione, l'abbiamo chiamato Elion Pia di Summer Edition. Grazie al supporto di Fitbrine nell'organizzazione di queste attività possiamo sempre contare su un partner che ci supporti nell'engagement delle nostre persone facendolo attraverso la leva dello sport che ha la caratteristica di unire molto le persone facendole divertire. Come tutte le aziende facciamo un investimento sul benessere delle persone e ci aspettiamo un ritorno. Alcuni ritorni li abbiamo già visti in termini di engagement delle nostre persone e abbiamo visto che questo aiuta anche tutte le persone a stare meglio e a sentirsi meglio al lavoro e con i colleghi. Fitbrine è riuscita nell'impresa di riuscire ad impattare il mio benessere perché io personalmente utilizzo la piattaforma online nonostante i miei orari che a volte mi richiedono di essere flessibile posso sempre utilizzarla in qualsiasi momento a volte la mattina, a volte la sera indipendentemente dall'orario in cui ho tempo posso sicuramente avere l'occasione e il momento per ricaricare le mie energie o per ripartire presto la mattina essere pronta per tutta la giornata. Grazie a tutti! Grazie a tutti!